Buonasera, ben trovati alla seconda edizione del Tg6 che apriamo parlando dei problemi dell'occupazione nella nostra regione con lo sciopero ad oltranza dopo una settimana da parte dei lavoratori della Tales di Chietiscalo Dopo la decisione della società di smettere e trasferire le attività presso le sedi di Sesto Fiorentino e di Gorgonzola i sindacati chiedono a questo punto a gran voce la realizzazione di un nuovo piano industriale Vediamo il servizio di Francesca Romanatesti Il 21 marzo scorso nel corso di un tavolo ministeriale la Tales SPA dopo aver precedentemente annunciato dei tagli ingenti ai posti di lavoro della sede di Chieti annuncia la volontà di smettere e trasferire le attività inerenti alla difesa presso altri stabilimenti per la precisione due, quello di Sesto Fiorentino e quello di Gorgonzola Il giorno dopo i lavoratori della sede di Chieti iniziano uno sciopero ad oltranza che oggi raggiunge il settimo giorno e spiegano il dissenso per una proposta da parte della società che sembra avere più di una falla È stato soltanto un maldestro tentativo di confondere l'idea a chi sta scioperando e a chi sta sostenendo questa battaglia Non c'è nessuna chance perché l'azienda ha ufficializzato l'idea di smantellare questo sito produttivo e i progetti che sono stati presentati e che dovrebbero essere visti come la possibilità di mantenere in vita un rapporto di lavoro non sono assolutamente credibili Tenere in piedi dei posti di lavoro, pochissimi tra l'altro, parliamo di 26 posti di lavoro qui a Chieti significa preparare il trasferimento successivo presso la Malesia Ad intervenire sulla questione era stato da subito anche il vicepresidente della regione Abruzzo Giovanni Lolli richiedendo un tavolo con le parti La volontà era quella di dare più garanzie alla società ed evitare con tutte le forze la chiusura della sede Ma ad oggi sembra impossibile trovare un accordo i sindacati chiedono la possibilità di pensare a un nuovo piano industriale La nostra proposta è chiarissima annullare il piano industriale, quel piccolo progettino industriale che loro hanno realizzato cioè di chiudere questo sito sedersi a discutere con noi per capire come questo sito si rilancia quindi un nuovo piano industriale di rilancio e non di chiusura con tanto di dettagli in primis quanti soldi mettere per il rilancio vero di questa azienda Parliamo ora di sanità perché il 9 dicembre 2015 è stato approvato il decreto di appropriatrezza prescrittiva che prevede le condizioni di derogabilità di alcune prescrizioni di assistenza nell'ambito del servizio sanitario nazionale Tale decreto prevede di far pagare interamente ai cittadini ben 203 prestazioni mediche sulla questione La nostra Elisa Leuzzo ha ascoltato l'assessore regionale alla sanità Silvio Paolucci Con il decreto 203 alcune prestazioni sanitarie saranno completamente a carico del paziente Nei giorni scorsi si è parlato di un'eventuale sospensione del decreto tra l'altro già adottata dalle regioni Veneto e Toscana Assessore si aspetta una possibile revisione del decreto o sospenderà l'applicazione? Ma intanto i contenuti sanzionatori del decreto sono stati sostanzialmente elusi da una nota della struttura commissariale abruzzese è evidente che noi essendo commissariati non abbiamo i margini di autonomia per procedere come Toscana e Regione Veneto però allo stesso tempo nella conferenza Stato-Regioni mi sembra che tutte le regioni all'unanimità hanno chiesto modifiche al decreto Lorenzin e quindi credo che ci saranno opportuni cambiamenti nel corso delle prossime settimane Assessore con l'attuazione del decreto invece quali sarebbero i costi maggiori per i pazienti? Allora ci sono 203 prescrizioni e prestazioni che una volta superati determinati parametri diventano inappropriati dal punto di vista tecnico e a quel punto scatterebbe la compartecipazione del cittadino nel caso di specie però è stato eluso questo meccanismo perché non è stato previsto alcun tipo di meccanismo sanzionatorio a carico dei medici che laddove dovessero prescrivere prestazioni cosiddette oggi inappropriate Polemiche anche sull'ospedale di Ortona nei giorni scorsi? Ogni riforma sanitaria, soprattutto sanitaria, porta con sé tante polemiche in realtà noi stiamo provando a fare un cambiamento che in qualche modo è orientato anche dal cosiddetto decreto Lorenzin, il DM70 ma che nei fatti non toglie alcun postoletto perché noi ne avevamo oltre 3.000 e oltre 3.000 continuiamo a disegnarne nel nuovo piano sanitario cercheremo però di dare a ogni presidio ospedaliero o struttura sanitaria una sua vocazione, una sua destinazione perché nella rete, nel piano sanitario ereditato, noi avevamo sostanzialmente gli stessi reparti in tutti i luoghi e questo portava ad avere quegli stessi reparti e bassi numeri e nei fatti una bassa casistica che vuol dire anche minore qualità al contrario invece disegnando una rete dove ogni struttura fa una cosa e la fa bene secondo me anche se c'è da spostarsi un po' di più sicuramente però c'è da trovare un miglior servizio allo stesso tempo tutto ciò va garantito con un'adeguata rete di emergenza urgenza in modo da abbattere la tempistica sulla rete di emergenza urgenza, cosa che sta avvenendo Cambiamo pagina, Gesù Giancarlo, cittadini per l'autonomia di magistratura e polizia e il contenuto di uno striscione apparso sul palazzo che si trova di fronte la sede della questura di Pescara per esprimere solidarietà all'investigatore della squadra mobile pescarese Giancarlo Pavone impegnato nelle indagini sulla vicenda della City dopo le dichiarazioni in consiglio regionale del governatore Luciano D'Alfonso sulla vicenda nei giorni scorsi erano intervenuti con una nota unitaria anche le segreterie provinciali di SIULP, SAP, SIAP, SILP, CGL, UGL, Polizia, COISP e UIL Polizia che criticando l'attacco di D'Alfonso avevano espresso piena solidarietà al collega annunciando tra l'altro di voler intraprendere ogni iniziativa anche eclatante utile a garantire la dignità e la professionalità dei poliziotti andiamo avanti con il nostro telegiornale andiamo all'Aquila perché a sette anni dalla telefonata fra l'allora capo della protezione civile Bertolaso e l'assessore regionale stati domani manifestazione all'Aquila per chiedere che sia fatta piena luce su quella che fu definita un'operazione mediatica ovvero la riunione della commissione Grandi Rischi per non dimenticare e chiedere che la giustizia italiana faccia piena luce sulla tragedia del sisma con questo spirito familiari e parenti delle vittime hanno organizzato per il pomeriggio di domani 30 marzo dalle 17 davanti all'auditorium del parco una manifestazione a cui è stato chiesto a tutta la città di partecipare la data coincide con l'ormai nota purtroppo telefonata avvenuta nel 2009 tra l'allora capo della protezione civile Bertolaso e l'assessore regionale alla protezione civile stati una conversazione seguita alla chiamata della stati dopo una forte scossa 4.1 che fu registrata nel pomeriggio all'Aquila dove da mesi era in nato lo sciame sismico Bertolaso la rassicurò preannunciando per il giorno dopo una riunione della commissione Grandi Rischi un'operazione mediatica come la definì lo stesso capo di partimento al telefono mentre una settimana dopo alle 3.32 il terremoto distrusse l'Aquila e il suo Interland portando via con sé 309 anime per quella riunione furono processati tutti i sette componenti della commissione e dopo tre gradi di giudizio l'unico ad essere stato condannato è stato Bernardo De Bernardinis all'epoca vice di Bertolaso che davanti alle telecamere invitò tutti a bere un buon montepulciano invece di preoccuparsi dello sciame sismico parole e sentenze che a sette anni dal terremoto lasciano più che l'amaro in bocca e per questo domani l'Aquila ricorderà a tutti cosa è diventata dopo quell'operazione mediatica Noi dall'Aquila ci spostiamo a Pescara dove il 31 marzo si svolgerà la conferenza dei servizi per decidere sull'eventuale realizzazione ad Avezzano della centrale a Biomasse Power Crop a dichiararsi contrari all'opera la regione Abruzzo le amministrazioni locali, cittadini e le associazioni ambientaliste che annunciano un presidio sotto gli uffici della regione a Pescara in via Passo Lanciano proprio per il 31 marzo Vediamo il servizio La partita contro la realizzazione della tanto temuta centrale a Biomasse di Avezzano arriva ad un epilogo Il prossimo 31 marzo si deciderà definitivamente per il sì o il no nel corso della conferenza dei servizi davanti alla regione Abruzzo i rappresentanti istituzionali dell'area interessata e la ditta realizzatrice Tante erano state le manifestazioni di dissenso da parte di cittadini e associazioni ambientaliste che in più di un'occasione avevano elencato tutti i rischi per il territorio e l'economia dell'area in questione Le preoccupazioni ambientali per una centrale che non ha rispetto dell'ambiente fucenze dell'agricoltura e anche quindi dell'economia della zona del fucino e dell'intero Abruzzo Impossibilità di reperimento della biomassa legnosa elevatissimi consumi di acqua incompatibili con le necessità di approvvigionamento del fucino smaltimento delle acque industriali, impatto sull'habitat naturale, inquinamento atmosferico e danni all'economia e nello specifico per il comparto agroalimentare La ditta non ha ancora chiarito dove prenderà le 275 mila tonnellate di legno che brucerà in questo camino, siamo contrari perché utilizzerà un milione di metri cubi di acqua che saranno tolti al consumo umano ed agricolo Nell'attesa della decisione del 31 si prepara un nuovo presidio di manifestanti proprio sotto al palazzo della regione che fino ad oggi, insieme alle istituzioni coinvolte si è sempre professata contraria alla sua realizzazione ma la preoccupazione degli ambientalisti resta sempre alta Una riconversione che è stata spacciata quindi come un progetto all'avanguardia a livello ambientale e che invece da subito ha perso i pezzi fondamentali ossia soprattutto la ricostruzione di una filiera agroenergetica che avrebbe dovuto prevedere un impianto di cogenerazione di calore dove il calore fosse riutilizzato per alimentare le serre che dessero quindi una nuova spinta all'agricoltura del territorio e che si è persa da subito invece con la concezione di una semplice centrale elettrica che avrà solo delle ricadute negative non solo quindi sulla qualità dell'aria, dell'acqua ma anche proprio sulla stessa attività agricola Apriamo ora un'ampia pagina riguardante la cronaca Un vasto incendio si è sviluppato intorno all'ora di pranzo ed è ancora in corso all'Italpannelli di Ancarano in provincia di Teramo dove sono attualmente impegnate diverse squadre di vigili del fuoco di Teramo ed Ascoli Piceno Dalle prime informazioni l'incendio si sarebbe sviluppato mentre gli operai erano al lavoro e avrebbe interessato un'ampia area dell'azienda Vibratiana proprio al confine tra Abruzzo e Marche La Italpannelli produce strutture prefabbricate in acciaio, legno e lamellare di cemento La superstrada Ascoli Mare è stata chiusa all'altezza dello svincolo di Spinetoli Proprio per il fumo il traffico è stato dirottato sulla strada salaria Molti i curiosi che stanno osservando la colonna di fumo che si è levata dallo stabilimento ben visibile a diversi chilometri di distanza Grossi problemi dunque per la circolazione ma anche perché si teme che la nube tossica possa creare problemi anche nelle prossime ore Come detto al lavoro ci sono diverse squadre dei vigili del fuoco sia del comando provinciale di Teramo che di quello a Scolano Vedete le immagini che ci sono state fornite gentilmente dai colleghi del sito City Rumors Ancora cronaca, ci spostiamo in provincia di Chieti Quattro i feriti dopo un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio a Casoli in località Cipollaro dove una lancia Y al termine di una testacoda Si è schiantata contro un guardrail, le ferite più importanti sono state riportate dal conducente del mezzo unico maggiorenne del gruppo e da un suo amico Altri due minori hanno riportato ferite meno gravi per due dei quattro feriti però si è reso necessario il trasferimento in elisoccorso all'ospedale civile di Pescara sul posto i carabinieri per accertare le modalità dell'incidente Cinque chilometri di coda sull'autostrada 14 nel pomeriggio in direzione nord in seguito ad un tamponamento tra sei veicoli avvenuto al chilometro 412 ed 800 tra i caselli di Lanciano ed Ortona Nello scontro sono rimaste ferite tre persone Una di queste, secondo le prime informazioni, avrebbe riportato lesioni gravi ed è stata trasportata in elicottero all'ospedale di Pescara Ancora cronaca, restiamo in provincia di Pescara perché è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di ortopedia del Santo Spirito del capoluogo adriatico un agricoltore settantotenne rimasto ferito questa mattina in un incidente agricolo avvenuto A Farindola l'uomo, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri avrebbe messo in moto il suo cingolato non accorgendosi che era stata inserita la marcia nel tentativo di fermare il mezzo L'uomo ha tentato di spegnere proprio il motore e è salito sul trattore poi terminato a terra battendo violentemente la schiena sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno provveduto anche in questo caso al trasferimento del 78enne in elisoccorso all'ospedale di Pescara dove è ricoverato, come dicevamo, in prognosi riservata anche in questo caso le indagini sono state effettuate dai carabinieri della compagnia di Penne Noi ci spostiamo nell'area frentana a Lanciano perché nel tardo pomeriggio del giorno di Pasqua un detenuto di origini campane recluso nel carcere di Lanciano avrebbe aggredito con violenza ed è gratuita un sovrindentente di polizia penitenziaria lo scrive oggi in una nota il segretario provinciale della Ui Polizia Penitenziaria il detenuto da poco arrestato per reati comuni già isolato dalla restante popolazione detenuta aveva aggredito e ha aggredito questo agente della polizia penitenziaria per futili motivi dopo averlo avvicinato con una scusa sono in corso indagini e lasciamo l'ampia pagina di cronaca per parlare di politica ci spostiamo a Montesilvano perché il Comune senza soldi cerca un esperto di conti attraverso un bando pubblico in palio un incarico da 25 mila euro per 20 mesi Elisa Leuzzo Sindaco, il Comune di Montesilvano ha i conti in rosso però nonostante questo venerdì scorso è uscito questo concorso per la ricerca di un esperto contabile da 25 mila euro l'anno Ma non ne facciamo mistero che i conti del Comune sono in rosso questa figura che si occuperà di controllo di gestione ci servirà proprio per organizzare la macchina amministrativa e per cercare di intuitare tutte quelle fette quelle grosse risorse di tributi che oggi noi non riusciamo a intuitare per una serie di disfunzioni della macchina amministrativa non è un mistero ed è risaputo da tutti che questo Comune dovrebbe vantare 410 dipendenti quando in realtà i dipendenti effettivi sono 170 abbiamo delle carenze amministrative abbiamo delle difficoltà nella gestione anche dell'ordinario considerando che non possiamo fare nuove assunzioni C'è comunque già un dirigente alle finanze all'interno del Comune? Abbiamo un dirigente alle finanze all'interno del Comune però è altrettanto vero che i pensionamenti che si sono avvicendati negli ultimi anni non hanno consentito di rimpiazzare le persone che sono andate via è altrettanto vero che le incommense aumentano sistematicamente ma questa non è una figura che può essere sopperita dalla figura dirigenziale sia ben chiaro perché questa è una figura estremamente specialistica che si occuperà di controllo di gestione che purtroppo è un controllo che all'interno di quest'ente è carente non è stato mai attivato in tutti questi anni e che può consentire e sicuramente consentirà l'efficientamento della macchina amministrativa e questa è l'unica amministrazione che si è presa l'onere di tagliare tutti i rami secchi di ridurre la spesa di aumentare l'efficienza nella riscossione dei tributi e quindi sotto questo punto di vista e su questa strada noi vogliamo continuare ad andare avanti perché solamente riuscendo ad arrivare ad arrivare a degli adeguati livelli di efficientamento della macchina amministrativa ci potrà essere un'effettiva riduzione della tassazione sul territorio E noi torniamo all'Aquila perché sarà inaugurato giovedì il parcheggio a servizio del Tribunale dove fino ad oggi sono stati registrati caos e proteste per la carenza di posti auto Fin dalla sua inaugurazione a novembre era chiaro a tutti che il grande vulnus del nuovo Tribunale ricostruito in via 20 Settembre era la carenza di parcheggi dal giorno dopo auto in sosta selvaggia lungo tutta via Filomusi Guelfi hanno creato non pochi problemi alla circolazione e costretto spesso la Polizia Municipale ad elevare sanzioni e multe per scoraggiare i parcheggi più o meno fantasiosi Per tamponare l'emergenza era stato attivato anche un servizio navetta che partiva dal parcheggio della Corte d'Appello vicino alla stazione ma anche quella operazione non ha riscosso particolare successo con cittadini e avvocati sempre alla ricerca di un parcheggio nei pressi del palazzaccio con conseguente caossa nelle vie limitrofe dove tutto un cantiere è persino davanti alla sede comunale di Villa Gioia Giovedì, due mesi e 230.000 euro dopo verrà inaugurato il parcheggio che sorgerà a fianco dagli uffici giudiziari dove in precedenza erano costruite delle abitazioni di dedizia residenziale 100 posti auto che aiuteranno a regolarizzare il problema della sosta che nei mesi scorsi ha sollevato proteste anche di chi pur non dovendo andare in tribunale non aveva alcuna idea di dove lasciare l'auto correndo ogni volta il rischio di trovare l'odiatissimo Revale Verde sul parabrezza Cambiamo ancora pagina prenderà il via fra pochi giorni la 26esima edizione di Ecotour la Borsa Internazionale del Turismo Natura che si terrà il primo ed il 2 aprile nel villaggio turistico Salinello a Tortoreto Lido Ecotour 2016 arriva alla 26esima edizione intanto una grande soddisfazione per la partecipazione Sicuramente una cosa che ha funzionato quest'anno entreremo in maniera decisa anche noi con dei parchi con le deleghe che ho io le riserve tutte le aree protette e la montagna in questa manifestazione per far sì che si possa introdurre in maniera significativa un riequilibrio nell'offerta turistica che vede appaiate la costa con l'entroterra e le aree protette noi lavoreremo per continuare il sistema della protezione della biodiversità il discorso del coinvolgimento di tutte le aree ma soprattutto la messa in rete delle aree protette per far sì che si possa creare un veicolo di commercializzazione molto più positivo e che possa determinare un grande flusso vero di turisti nei nostri territori Come si svilupperà da due giorni e quali sono le novità per quest'anno? La novità è il modello di rappresentanza e di lavoro che si svilupperà in un contenitore diverso che è quello del Salinello quest'anno un impianto che non assomiglia a un centro fieristico ma che ha la qualità e la quantità di servizi che necessitano in una manifestazione professionale come questa di Ecotour dove vi sono buyers e sellers compratori e venditori i compratori vengono da 12 paesi europei i venditori vengono da 7 regioni italiane Si sono svolti questa mattina nella cattedrale di San Cetteo a Pescara i funerali di Fiore di Sciascio personalità politica intellettuale e storica della città Un pioniere un intellettuale un uomo politico fu fatto prigioniero dai nazisti quando aveva 20 anni Fiore di Sciascio è morto a 92 anni nella sua casa di Pescara lasciando dietro di sé il ricordo di una personalità attiva forte e vitale fuggì dalla prigionia eludendo il controllo dei tedeschi che l'avevano portato a manoppello sottoponendola interrogatori e maltrattamenti subito dopo si laureò a Napoli in ingegneria a Pescara dal 1956 al 1975 fu attivo politicamente come consigliere assessore comunale rappresentante della DC guidata da Antonio Mancini fu insegnante all'istituto tecnico-industriale Volta partecipò alla redazione del piano regolatore di Pescara nel 1959 si occupò della costruzione dell'odierno stadio adriatico nelle successive legislature alle quali si candidò quelle del 60 del 64 e del 70 risultò tra gli eletti sempre con ampi consensi le deleghe ricoperte furono quelle dell'edilizia e dell'urbanistica nel 1991 gli venne conferita la gran croce al merito dall'Accademia Internazionale per le Scienze Economiche e Sociali e Ispettore Prefettizio per le opere in cemento armato a partecipare alla cerimonia funebre questa mattina presso la cattedrale di San Cetteo tanti amici parenti e anche istituzioni pubbliche come il sindaco Marco Alessandrini che a lui ha rivolto parole di stima dichiarando che con fiore di sciascio scompare un pezzo dell'identità amministrativa della città di Pescara e ora apriamo la pagina sportiva parliamo di calcio del Pescara che si prepara alla gara di sabato allo stadio Adriatico con il fanalino di Codacomo d'obbligo la vittoria per i biancazzurri reduci da 5 sconfitte di fila ancora problemi di formazione per il tecnico Massimo Oddo soprattutto per quanto concerne il settore arretrato non ci saranno infatti Crescenzi e Mazzotta che sono infortunati Zampano che è squalificato in dubbio Vitturini che ha subito un leggero infortunio nella gara disputata con l'Under 19 non è al meglio della condizione ma scenderà sicuramente in campo Ugo Campagnaro intanto la società fa quadrato attorno al tecnico Massimo Oddo oggi in conferenza stampa ha parlato il direttore generale del Pescara Giorgio Repetto penso che lui rimane l'allenatore del Pescara fino alla fine in tutti i modi qualsiasi cosa succeda da qua alla fine ha spiegato beh abbiamo progetto nel calcio è una parola un po' grosso però a noi a lui dobbiamo tantissimo perché ha preso la squadra l'anno scorso abbiamo fatto dei playoff che sapete benissimo per tre traversi non ci hanno concesso di salire fatti via sei sette giocatori sono arrivati altri lui in pochissimo tempo è riuscito a creare una squadra forte una squadra che ha giocato al calcio meglio di quasi tutte quelle che sono nella nostra categoria forse anche di qualcuna che sta sopra io sono veramente contento di quello che ha fatto la squadra fino a oggi non guardiamo solo le ultime nove guardiamo 33 partite giocate la squadra si è espressa benissimo abbiamo attraverso lui posto all'attenzione di squadre di massima serie alcuni giocatori che hanno mercato che avranno mercato non possiamo essere disturbati dal mercato che hanno dei nostri giocatori perché è un motivo di orgoglio che della società di Serie A seguono i nostri giocatori e questo lo dobbiamo al gioco che lui ha insegnato ai giocatori e che ci hanno messo anche poco ad apprendere quindi vuol dire che l'hanno seguito completamente non può essere una serie di sconfitte a farci cambiare idea a farmi cambiare idea adesso sto parlando per me a farmi cambiare idea per cui sono felice dell'allenatore e sono convinto che si debba pensare come diceva Massimo al futuro sicuramente ci sono stati degli errori nostri perché magari potevamo fare qualcosa di meglio e ce ne assumiamo io me ne assumo in prima persona la responsabilità ci mancherebbe come lui si assume quelle d'allenatore è chiaro che io mi devo assumere quelle sul mercato ci mancherebbe è normale Ancora Serie B parliamo del Lanciano che si prepara all'anticipo di venerdì sera a Lezio Scida di Crotone Lanciano reduce dalla sconfitta casalinga con il Perugia per la sfida in terra calabrese in dubbio di Francesco e Salviato il commento alla brutta prova nella gara con gli Umbri nelle parole dell'attaccante Nicola Ferrari e del centrocampista Michele Rocca Alessio Gian Cristofaro probabilmente non è stato un gran Lanciano ne siamo consapevoli abbiamo fatto una prestazione sotto tono sono stati bravi anche loro perché ci hanno probabilmente imbrigliato in maniera migliore e non siamo riusciti a trovare delle alternative vuoi per una giornata cattiva di tutti noi vuoi per loro peccato perché comunque sia un'occasione grandissima non cambia non cambia il nostro campionato ci rimboccheremo le maniche e andremo a Crotone sperando di trovare almeno la prestazione che è quella del Lanciano degli ultimi tempi sono state parecchie difficoltà perché avevamo preparato una partita in una maniera e probabilmente ci sono state delle difficoltà nel senso che era diversa la partita quindi non siamo riusciti a trovare le controribattute però dovevamo essere bravi dovevamo essere più bravi e serve anche questo per esperienza e niente non cambia comunque il nostro campionato come dicevo prima è stata una giornata è stata una giornata complicata soprattutto dal punto di vista del gioco ma anche dal punto di vista dell'impegno un po' abbiamo non so interpretato male la partita non siamo riusciti bene a scendere in campo loro ci hanno messo difficoltà soprattutto sul piano del gioco ma noi pensiamo sempre di scendere in campo e mettere sempre il 100% non abbiamo mai pensato di entrare in campo e magari pareggiare parte della partita ci mancherebbe poi le giornate così ci stanno e non possiamo farci nulla anche troppo lunghi i reparti almeno in queste otto gare di Maragliulo aveva abituato ad una squadra molto compatta sì a parte quello ci hanno messo un po' in difficoltà a centrocampo perché erano sempre con l'uomo in più e quindi magari ci saltavano troppo facilmente arrivavano troppo facilmente a concludere Siamo al campionato di Lega Pro parliamo del Teramo che ha ripreso la preparazione in vista della gara con il Rimini match che si giocherà sabato al Bonolis intanto il difensore Brugaletta è prossimo a firmare il rinnovo con la società ed oggi ha espresso la sua soddisfazione per l'accordo a proposito di Teramo Rimini la società bianco-rossa ha proclamato per la gara con i Romagnoli la giornata bianco-rossa non saranno dunque validi gli abbonamenti vediamo il servizio di Andrea Costantini Abbiamo trovato l'accordo e sono molto felice di rimanere qua perché questo è un ambiente che mi piace molto piace molto la società la tifoseria e cerco di dare al massimo anche queste ultime partite che rimangono nel prossimo anno sono molto contento sono molto soddisfatto per quello che sto facendo e spero di continuare su questa strada è stata una vittoria meritata questa volta gli episodi sono stati a favore nostro penso che ce lo meritiamo perché è stato un anno di sofferenza e finalmente per una volta gli episodi ci hanno dato ragione e adesso cerchiamo di vincere contro il Rimini per per mettere a sicuro la salvezza avevamo preparato la partita proprio proprio su quello e sono molto felice di aver contribuito alla vittoria perché avevamo preparato proprio la partita su quello sotto quell'aspetto e sono felice di aver svolto il compito in maniera positiva siamo una squadra veramente forte ci dispiace non essere più in alto in classifica però è andata così dobbiamo cercare di fare queste ultime partite che rimangono come se fossero tutte delle finali per cercare di arrivare più in alto no niente Scipioni è un ragazzo che mi dà molti consigli perché ha molta più esperienza di me è un gran calciatore posso io prendo molti aspetti positivi da lui perché ne ha veramente tanti perché è un ragazzo veramente in gamba che dà molti consigli è anche un calciatore fortissimo siamo all'Aquila che ha annunciato oggi ufficialmente l'arrivo di un nuovo calciatore si tratta del terzino Chiristian Chirieletti classe 1988 Chirieletti che già si allenava da qualche tempo con la società Rosso Blu nella passata stagione ha militato nella Serie Romena con la squadra dello Chalut e questa era l'ultima notizia della seconda edizione del TG6 grazie come sempre per averci seguito vi ricordo la terza edizione come sempre questa sera alle 23 ma alle 21 non perdete l'appuntamento con Proteramo con il nostro Jacopo Forcella per approfondire le tematiche riguardanti proprio la società Bianco-Rossa al termine ci sarà Prol'Aquila è tutto buon proseguimento di serata a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.